Una disfatta, un'umiliazione, la quarta sconfitta più pesante della storia della Sampdoria all'Olimpico contro la Lazio. I blucerchiati non risultano pervenuti. Il risultato finale è quasi tennistico. 7-3 per i padroni di casa. La partita della Sampd è durata un quarto d'ora. Dopo due minuti dal fischio d'inizio, la Lazio trova la prima rete con Keita. La reazione della squadra di Giampaolo si intravede e al diciassettesimo Diuricic sciupa una ghiotto occasione a tu per tu con il portiere per pareggiare nell'azione successiva. Skrini era a terra in aria con fallo da ultimo uomo. Keita ha lanciato a rete. Espulsione inevitabile. Ma fallo estremamente sciocco e inutile dello slovacco che lascia in dieci la sua squadra per 70 minuti immobile. Trasforma dal dischetto Linetti, uno degli ultimi ad arrendersi. Trova il gol del 2-1 che riaccende la luce per i blucerchiati. Poi Hood, Anderson e De Frey portano il risultato sul 5-1 nel primo tempo da qui. Il dominio della Lazio è assoluto nella ripresa a Quagliarella. Trova una preciosa doppietta ma l'ulice immobile. Portano il risultato definitivo sul 7-3. Insomma, una vera e propria disfatta una partita che ha mostrato tutti i limiti della squadra di Giampaolo, complice anche l'inferiorità numerica. Per buona parte della sfida il reparto difensivo non pervenuto sulle fasce. Dodoi Beresinski non sono mai riusciti ad arginare la velocità degli avversari. Skriniar, ingenuo così come Vasco Regini, subentrato per far fronte all'espulsione del compagno e autore di una prestazione disastrosa. Djuric getta via la possibilità di mettersi in mostra nel ruolo che predilige sulla tre quarti il fischio finale della sfida. È una liberazione. I giocatori vanno sotto la curva dei tifosi blucerchiati per scusarsi ma lo spettacolo è indegno. Adesso è necessario ritrovare la giusta rotta per concludere il campionato con un piglio diverso, un'umiliazione che deve servire da lezione per il futuro.